Riviera Berica ha subito riconosciuto la sua bicicletta che gli era stata rubata un mese e mezzo fa e corso dietro all'individuo che la conduceva e l'ha fermato chiamando gli agenti della volante. Protagonista un 69enne americano dipendente della caserma USA residente in città, qui era stata trafugata la due ruote di una nota marca statunitense parcheggiata davanti a un bar in pieno centro storico a Vicenza. Lunedì mattina lungo la ciclabile davanti alla palladiana Villa Capra l'uomo ha visto la sua bici, in sella ci stava un 28enne della Guinea che non ha saputo spiegare dove avesse trovato la bici accompagnato in questura senza documenti e stato denunciato per ricettazione e messo a disposizione dell'ufficio immigrazione.